Tra poco Sul canale 17 di Fano TV l'informazione locale La statale 16 bloccata a Gabice per un grave incidente stradale, code e disagi 27 dollari e l'opera lirica del premio Nobel della pace Yunus andrà in scena al Teatro della Fortuna Presentati gli eventi estivi della Proloco, confermata la Fano dei Cesari e la BCC Arena Buonasera cari telespettatori, benvenuti a Occhio alla Notizia, il Tg di Fano TV Iniziamo dalla cronaca, ieri sera un grave fatto di sangue è accaduto a Pian di Rose Un uomo, un sessantenne del posto, dopo un diverbio per ragioni economiche Spara ad una gamba di un imbianchino 38enne albanese Ed è stata subito caccia all'uomo, terminata però con la sua cattura Sentiamo E' stato rintracciato e fermato a luna della notte scorsa dai carabinieri Che erano ormai sulle sue tracce il sessantenne autotrasportatore di Sant'Ippolito Che alle 19.30 di ieri aveva sparato ad una gamba nel cortile di casa Ad un imbianchino di 38 anni con il quale aveva un debito per lavori di tenteggiatura Effettuati in una sua abitazione che ammontava a diverse migliaia di euro Lo sparatore si era addormentato all'interno della cabina del suo camion In una piazzola di sosta fuori dal casello della 14 di Rimini Nord I carabinieri, una quindicina, con un'azione sinergica hanno accerchiato prima il mezzo E poi immobilizzato l'uomo Il sessantenne aveva nella tasca dei pantaloni ancora il bossolo della sua Smith & Wesson calibro 38 a Tamburo Con la quale poche ore prima nei pressi della sua abitazione in via Rossini nella frazione di Pian di Rose Aveva fatto fuoco sull'imbianchino di origine albanesi Ma residente a Fano che era andato a chiedere il saldo dei lavori Assieme ad un suo conoscente di 33 anni, imbianchino anch'esso ma di origini moldave Sembrerebbe che l'origine dell'alterco tra i tre stia è il fatto che il preventivo dei lavori eseguiti dai due imbianchini Fosse lievitato di diverse migliaia di euro rispetto alla cifra iniziale E per questo il sessantenne non era in accordo con i due E' stato lo stesso ferito, rimasto sempre cosciente e a terra Nonostante la ferita, a mettere sulle stracce del suo assalitore i carabinieri Arrivati sul posto chiamati dai residenti E che hanno iniziato una vera e propria caccia all'uomo nelle ore successive E grazie alla collaborazione dei colleghi di Fossombrone e Pergola Assieme al nucleo radiomobile di Fano Coordinati dal comandante Luigi Grella Assieme ai colleghi del nucleo investigativo ed operativo di Pesaro Sono presto arrivati a rintracciare il fuggitivo che, lasciata l'arma in casa Si è dato alla fuga con il suo stesso cane L'uomo incensurato, sposato e con figli è stato denunciato a piede libero dai carabinieri Per lesioni gravissime e porto d'arma abusivo Gli sono state inoltre sequestrate dalla sua abitazione un'altra pistola e due fucili Oltre ad un centinaio di munizioni, il tutto regolarmente denunciato L'albanese ferito è stato trasportato poi dal 118 d'urgenza in codice rosso al torrette di Ancona Da dove è stato dimesso nella mattinata di oggi con una prognosi di 30 giorni E sul fronte del traffico oggi si registrano due incidenti stradali di particolare rilievo Il primo è accaduto alle Mille Miglia, la corsa spettacolare delle auto storiche Che questa mattina era in transito nella provincia di Pesaro Urbino A Castellone di Suasa due costosissime Ferrari Questa mattina poco dopo le 9.30 per ragioni ancora in fase di accertamento Lungo la strada provinciale 14 nel tratto compreso tra Corinaldo e Castellone di Suasa Mentre procedevano a velocità elevata sono entrate in contatto Entrambe sono finite fuori strada anche a causa del manto stradale viscido per la pioggia Ed una è finita contro un albero mentre l'altra ha terminato la sua corsa In un campo, notevoli i danni ad entrambe le vetture storiche E' ferita una donna facente parte dell'equipaggio di una delle due autovettura in corsa Soccorsa naturalmente dai sanitari del 118 Questo pomeriggio invece poco dopo le 17 lungo la strada statale 16 nei pressi di Gabicemare Al chilometro 225 l'ANAS ha chiuso in entrambi i sensi di marcia per un incidente frontale tra due auto Un Audi che procedeva in direzione Rimini-Pesaro mentre era intenta svoltare a sinistra in via panoramica E' stata urtata frontalmente e lateralmente da una Opel che procedeva in direzione opposta Pesaro-Rimini Ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale di Gabicemare La dinamica esatta dell'incidente Tre le persone ferite nello schianto Il conducente della Opel trasportato al pronto soccorso di Pesaro Ed il passeggero, un minore trasportato in eliambulanza a Torrette di Ancona da Icaro Atterrato in zona Lievemente ferito invece l'occupante dell'Audi Notevoli però le ripercussioni sul traffico con code e disagi E' stato anche deviato poi su arterie secondarie Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco di Pesaro Gli uomini dell'ANAS e due pattuglie della Municipale di Gabice Cambiamo argomento Classe 1960 Dottore commercialista fanese Giorgio Gragnola E' da pochi giorni il nuovo presidente della Fondazione Carifano Noi lo abbiamo incontrato questa mattina Sentite cosa ci ha detto Presidente allora come sono queste prime ore Prime giornate di contatto con questa nuova veste che ha assunto Abbastanza impegnative perché ad un'agenda già abbastanza impegnativa Adesso dobbiamo aggiungere altre cose quindi scopia di salute Adesso tecnicamente quali sono i passi nei quali si sta muovendo? Beh io penso che in questa prima fase occorra ascoltare Cercare di capire Portare avanti gli impegni che la Fondazione si è già assunta E poi quando faremo il bilancio preventivo dei prossimi anni Faremo una sintesi di quello che è emerso e quindi daremo delle indicazioni La Fondazione penso dovrà essere attenta a quelle che sono le attuali esigenze A quelle che prevede per il futuro e in questo senso dare il suo contributo Come ha sempre fatto Cosa vorrebbe metterci il suo bagaglio professionale, culturale e personale? Io voglio continuare a mettere nella Fondazione L'impegno e la passione che mi ha sempre animato In tutti i ruoli che ho ricoperto negli anni all'interno della Fondazione Perché penso che tutto debba passare comunque attraverso la passione Quale sarà la prossima sfida con la quale si dovrà cimentare? Quale sarà la prossima sfida non lo so Ma certamente il pensiero fisso è la redditività del patrimonio Oggi abbiamo un patrimonio liquido importante Inevitabilmente risente di quello che succede a livello internazionale La Fondazione è parte di Fano e Fano è parte della Fondazione, è un doppio binario? La Fondazione non è presente soltanto a Fano C'è un territorio più ampio, più vasto Ha certamente come punto di riferimento Fano ma non solo Se si dovesse fare un augurio in questo momento che tipo di augurio si farebbe? Di aiutare a migliorare la nostra città e il nostro territorio Di contribuire, di dare un contributo per crescere Bene, ed ora una comunicazione che ci arriva dall'Aeroclub di Fano Perché a causa delle condizioni meteo avverse emesse per la giornata di sabato 18 maggio Purtroppo l'evento Paradrenalina 2019 è stato annullato L'organizzazione fa sapere che comunicherà nel più breve tempo possibile La nuova data della manifestazione A Fossombroni invece sabato e domenica si concluderanno i festeggiamenti del trionfo del Carnevale Sentiamo tutti i particolari dagli organizzatori Purtroppo è fortuna che l'abbiamo rinviata Perché tutti hanno visto come è stato il tempo a domenica È stato rinviato a questo fine settimana Speriamo che il tempo ci sia clamente È stato diviso in due tronconi In pratica sabato e domenica Sabato ci prende insieme all'apertura di tutti i musei E quindi c'è un percorso che inizia a loro sedice anche a San Filippo Per chi vuole che si porti verso i luoghi dell'amore di Guido Baldo E Isabel Gonzaga che è stato cantato anche da vari poeti Finita questo percorso c'è l'apertura delle locande E vari spettacoli che tutti possono quindi usufruire Quindi spettacoli avremo spettacoli di fuoco di Nemesis Graveremo la Pandolfaccia Riavremo il Circa Teatro Riavremo gli erabondi musici E anche altre compagnie che animeranno il corso Due Vie Come è stato sabato scorso con tutti i vari spettacoli Quindi invitiamo tutti a venire sabato per la cena rivescimentale E godere di questi spettacoli per la famiglia come sempre Però c'è anche un pezzo domenica Faremo finalmente queste tanto attesissime finali Dove vedremo anche il gioco nuovo delle uova fresche Dove vedremo il taglio del tronco Dove ci saranno anche la famosa rara et bella corsa all'anello E nel frattempo di nuovo un intrattenimento Una sfilata rinascimentale E poi il tutto si concluderà nel tardo pomeriggio Come abbiamo detto infatti invece il sabato sera Si rifarà la grande festa Cantine aperte Soliti menù con tante altre cose buone da mangiare E festa fino a notte fonda Bene, il maltempo purtroppo ha ammiettuto vittime celebri Perché anche l'evento Vepar Show a Calcinelli Di Colli al Metauro in programma per il 19 maggio È stato annullato per maltempo La giornata verrà recuperata il 2 giugno prossimo Invece giornata speciale viene discorso allo Sport Park di Fano Dove si è svolto il torneo di bowling Dedicato alle persone diversamente abili Vediamo di che cosa si tratta nel servizio di Simona Zonghetti Sono tutti i ragazzi del centro di Pesco Riproviamo Il centro di Pesco Lo sport ha il potere di cambiare il mondo Di suscitare emozioni Ha il potere di unire le persone come poche altre cose Lo sport ride in faccia ad ogni tipo di discriminazione Era chiaro il messaggio di Nelson Mandela Un concetto che più di tutti altri rappresenta oggi La missione della WISP di Pesero Urbino Che anche quest'anno allo Sport Park di Fano Ha organizzato la finalissima del torneo di bowling Dedicato alle persone diversamente abili Questi ragazzi, ragazze, uomini e donne Pieni di allegria e di amore verso il prossimo Sono l'esempio di come il bowling Possa essere uno sport per tutti Una disciplina capace di aggregare Far divertire e includere Tra una carezza, un abbraccio, uno strike O un birillo mancato Amalia, Maregrazia, Giacomo, Sara E i loro amici hanno potuto vivere Una giornata intensa e davvero speciale Che si è conclusa con una bella medaglia al collo E una coppa da sollevare al cielo È il quinto anno che facciamo questa cosa Stiamo parlando del torneo di bowling Per persone diversamente abili Sì, ci piace, ci piace un sacco Ci piace perché si respira Se fossimo in Spagna diremmo la buona vibra Ok? No, no, è veramente un ambiente bello C'è calore umano Ed è questo veramente che ci interessa Lo sport serve anche ad includere le persone Ecco, il lato inclusivo dello sport Quello che vogliamo mettere in primo piano E credo che oggi ne è la dimostrazione E sono stati presentati questa mattina Gli oltre 60 eventi Tutti messi a punto dalla Proloco Sentiamo che cosa ci aspetta Per i prossimi mesi La Proloco di Fano e le associazioni locali Scaldano i motori E sono pronte a partire Con oltre 60 giorni di eventi Che con l'ormai rodato mix Tra iniziative culturali E feste campagnole E arena BCC Continuano a rendere sempre più appetibile La bella stagione della città della fortuna La rete dell'associazionismo Cuore pulsante degli eventi in questione Sotto la coordinazione della Proloco Fano a Fortuna E dell'amministrazione comunale E' riuscita a mettere in campo Un carnet di appuntamenti Che ormai da diversi anni Valorizza i luoghi, la storia, la città In un programma così vasto Che ci accompagnerà per tre mesi Trova i gusti di turisti, locali Ogni fascia di età Anziani e bambini E con l'essenziale contributo Di associazioni volontariato Che assicurano In un contesto sempre più difficile E donerose Per i costi di sicurezza La continuità Ed il tramandare Nel tempo di tradizioni Piatti, ricette Etmosferi D'un tempo Le difficoltà sono enorme Troviamo delle difficoltà In certi quartieri Però cerchiamo come Proloco Di tenere tutti in piedi E a darle una mano Per queste belle realtà Fanno dei cesari Speriamo che ci sia Una bella edizione Che quest'anno Quest'anno Già noi stiamo lavorando Sul progetto Naturalmente i tempi Sono quelli che sono L'augurio è che chiunque Vada su mantenga Questa bella realtà Sì, sotto questo aspetto Sicuramente sì Le forze politiche Si erano impegnate Su questo Tre anni Le elezioni sono imminenti Però naturalmente Noi non possiamo aspettare A fine di giugno Chi sarà il nuovo assessore Chi sarà il nuovo sindaco Perciò stiamo lavorando Organizzativamente Da giugno fino ad agosto Eventi culturali E feste campagnole Scandiranno il passare Del tempo In una consolidata tradizione Anche quest'anno Confermati tutti gli appuntamenti Mancabili Nei vari quartieri E nelle frazioni fanesi E gli eventi culturali Sparsi in tutta la città Con conferme assolute Come la Fano dei cesari E il Wine Festival In collaborazione Con l'associazione Camminando sui tuoi passi In ricordo Della sommelier Scomparsa Sara Bracci Partiamo subito Questo fine settimana Con la Fano Geo Mentre il secondo evento Dall'associazione di Falcineto Dove ci sarà la festa Della Mietitura Dopo questo evento C'è il palio delle Contrade Fano dei cesari L'anno scorso È stato un bel exploit Quindi quest'anno Toca che vi ripetete Se non migliorate Infatti dall'8 al 14 luglio Ci sarà la Fano Fortuna E la Fano dei cesari Dopo la Fano dei cesari Ci sarà la Notte dei Desideri Poi ci sarà Angi per fan In giro per fan Sarà il 9 agosto A seguire poi Il paese dei balocchi Che ormai È a livello nazionale Quindi una festa importantissima Che riguarda i bambini E tutte le famiglie Il raduno Del Vespa Club E la birra D'agosto Sempre ad agosto E poi Ci sarà Il museo Dei riciclosauri E qui Importante L'unione Di Fano Con l'entroterra Bene Ce n'è veramente Per tutti i gusti E al Teatro della Fortuna Di Fano Il prossimo venerdì Di maggio Si svolgerà L'anteprima mondiale Di 27 dollari Il premio Nobel Per la pace Yunus Il servizio È di Francesco Salvago Il prossimo 20 maggio Alle ore 18 Andrà in scena Al Teatro della Fortuna Di Fano L'opera lirica 27 dollari Ispirata al libro Il banchiere dei poveri Del premio Nobel Per la pace Muhammad Yunus L'opera ideata Dalla compositrice Paola Samoggia Prende ispirazione Al progetto Di microcredito Del premio Sviluppando Una composizione In suoni Melodie Ed aria La storia Tratta dalle vicende Di un intero Villaggio schiavizzato Il quale Non riusciva A distinguere I 27 dollari Di debito Che lo rendevano Incatenato Agli usurai Il microcredito Inventato da Yunus Ha dato loro I mezzi Per conquistare La libertà E ha permesso Al dottore In economia Di conquistare Il Nobel È un'opera Che proprio per scelta Ha un allestimento Molto tecnologico Per cui ha Una grande scenografia Su video Multimediale Perché c'è anche Un personaggio Che è proprio Sul video E questo per tenere I costi d'allestimento Il più basso possibile Affinché l'opera Possa girare Ed è stata volutamente Una Fatta con Il canto lirico Diciamo proprio Perché vogliamo Riproporre Questa forma d'arte Che ci ha riconosciuta Come nostra Connotante Da tutto il mondo La rappresentazione Dell'opera Istituisce un'opportunità Di educazione finanziaria Per diffondere Una cultura economica Basata sull'etica E sulla sostenibilità sociale Per valorizzare Gli aspetti etici E morali Dell'economia E il ruolo centrale Degli esseri umani All'interno All'interno dei sistemi Economici L'evento è stato realizzato Grazie all'Associazione Nazionale Italiana Cantanti In collaborazione Con l'Università di Urbino Carlo Bo Noi abbiamo collaborato Spessissimo Questa è un'attività Che è parallela A quella di Raccolta fondi Che la nostra associazione Sviluppa attraverso Le partite Come recentemente È successo Proprio qui a Fano Ci sono forti legami Con la città di Fano Con il sindaco Massimo Seri Eccetera Per la disponibilità Per l'attenzione Alle nostre iniziative Durante l'anteprima mondiale Dell'opera Il rettore dell'università Conferirà al professore Il sigillo di Atenio Onereficenza Già segnata negli anni A grandi personaggi Della cultura E imprenditori Yunus ci parlerà Del social business Che è un correttivo Diciamo Al sistema tradizionale Di impresa Che non guarda Solo E soltanto Al profitto Ma Focalizzata A far sì Che ognuno Possa tirar fuori Il proprio potenziale Umano Attraverso la resilienza L'essere umano Ha tirato fuori Il meglio di sé Ed è su questo Che si basa Il social business Cioè far sì Che ognuno di noi Possa tirar fuori Le proprie capacità Imprenditoriali E legarle Alla soluzione Dei problemi Della gente Delle singole persone Della comunità Di un paese Questo è tutto Naturalmente Questo è il numero In sovraimpressione Che vedete Per entrare in contatto Con la nostra redazione E lasciarci i vostri Suggerimenti E le vostre segnalazioni Grazie per essere stati In nostra compagnia Arrivederci E buona serata A tutti voi Grazie a tutti